È stata un'esperienza fantastica, soprattutto perché il mio percorso è partito tanto tempo fa, all'età di otto anni, dal conservatorio. Ho continuato gli studi del pianoforte per circa undici anni. Nel frattempo ho iniziato a scrivere canzoni, ho fatto corsi di composizione, ho studiato la batteria. Nel mio piccolo la musica l'ho esaminata, l'ho studiata e ho sempre sognato di riuscire a concretizzare su questo palco, sul palco dell'Ariston, di concretizzarmi, di concretizzare la mia musica, perché è sicuramente il palco più importante che abbiamo in Italia. E per me vedere una riuscita del genere, specialmente in un periodo così particolare della mia vita, mi dà una forza e sicuramente una determinazione nell'affrontare le cose, importante, perché vuol dire che nella vita non c'è sempre spazio soltanto per le delusioni, per le sconfitte, ma tante volte si può vincere e soprattutto regalare tramite una vittoria speranza a tante persone, a tanti ragazzi soprattutto che mi hanno scritto, il messaggio che preferisco sicuramente è quando dicono che si sentono meno soli sentendo le mie canzoni. Quindi la solitudine poi quando è affrontata tutti insieme diventa meno sola, tra virgolette. Cioè la musica ha questo potere di far sentire tutti meno soli se si indossa lo stesso dolore. E il compito che voglio portare, che voglio iniziare oggi, è di far sentire appunto meno sole le persone che sono in solitudine. Questa è la mia missione.